Non non essere abbannino, se ne ti starò vicino, a me è stato usperato, se ne ti farò diventato. Quando che andiamo? Io ti posso rendere un'altra cosa. La gente vuole sapere! La gente vuole sapere! Chi noi siamo? Chi noi siamo? Gli lo diciamo! Gli lo diciamo! Chi noi siamo? Chi noi siamo? C'è unada dalla maria, l' love Gli lo dì e il gioco ci vedrà! Ma saremo sempre qua quando l'Italia giocherà, perché l'Italia è la squadra e l'Unità! L'Azzurro è il colore che anni fa, L'Azzurro è il colore cagliaro, all'Azzurro c'è tutto per noi, è l'Italia l'Europa, che è la pena di noi con l'Unità. ragazzi sono arrivato ufficialmente ad appiano giornata dedicata a dare un po di carica ragazzi perché domani come sapete è una partita fondamentale sapete già cosa ne penso io qualcuno di voi che mi segue soprattutto su instagram quindi ancora se non mi seguite fatelo avrà visto sicuramente le storie in cui ne parlo però ci sta anche dirvelo di nuovo soprattutto per chi non ha ascoltato domani è l'ultimo treno ragazzi non ci sono scusanti non so cosa ne pensate voi anzi voglio proprio sapere la vostra qua sotto nei commenti e se non vinciamo domani ragazzi per noi è a mio modo di vedere al 99% chiusa ufficialmente la corsa allo scudetto ci sono due punti cardine fondamentali allora la prima è vincere domani a Torino e la seconda è eliminare il Milan dalla Coppa Italia e voi direte che cazzo c'entra col campionato ragazzi secondo me l'aspetto psicologico in queste ultime partite è di fondamentale importanza quindi di conseguenza secondo me una bella batosta nel derby o comunque il passaggio del turno dell'Inter potrebbe in un certo senso dico spaventarli però dare una carica positiva a noi e a loro al contrario magari un po rallentare il loro mood che in questo momento è positivissimo al contrario nostro che invece siamo abbastanza in declino ma io sono fiducioso e per domani ho delle belle sensazioni fatemi sapere anche un bel pronostico fatemi sapere secondo voi quanto finisce domani a Torino in sottofondo sentite i ragazzi della Nord e comunque tutti i tifosi che sono venuti qua da piano per sostenere la squadra tra poco arriverà il pullman quindi poi vi farò vedere tutte le immagini e naturalmente ragazzi sempre forza Inter vediamo adesso le immagini insieme vi mostro un po' com'è l'ambiente qua da piano e poi ci facciamo un bel recap generale e ci vediamo dopo ciao ragazzi dai ragazzi noi vogliamo questa vittoria noi vogliamo questa vittoria noi vogliamo questa vittoria è una domanda avete il fiato e tu sei fatto il fiato quella è sempre il sobra cuore non è sempre il tipo di voi e' un momento è il soltanto di uno e' sempre il risotto di luci C'è stato un bel lago, c'è stato un bel lago, c'è stato un bel lago. Non lo sai quando ti amo Tu sei molto di miglioro E non sei da sopra il cuore Da quel senso è il primo amore E non lo so tra l'antimo E sempre ci sarò vicino Non lo sai quando tu guardiamo E non lo sai quando ti amo Da quel senso è il primo amore E non lo sai quando ti amo 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti